Noi abbiamo un obiettivo, dare ai bambini che vivono in povertà in Italia le opportunità che meritano. Sono oltre un milione di minori che non hanno il necessario per fare una vita accettabile nel nostro paese. Dona ora al 45533. Sostieni Save the Children per dare a tanti bambini la possibilità di giocare, leggere, fare musica, correre su un campo di calcio. Illuminiamo insieme il loro futuro. Grazie a tutti.